In Consiglio Comunale oggi a Rovetta la premiazione delle volontarie dell'anno. L'amministrazione chi ha scelto? Sì, è dal 2005 che è stato istituito questo premio del volontario dell'anno intitolato La memoria di Gian Bruno Pedrocchi, che era un volontario esemplare. Quindi la non edizione. Quest'anno abbiamo il Consiglio Comunale, ha ritenuto meritevole il signor Arcangelo Savoldelli di San Lorenzo e dobbiamo dire che è un po' un premio alla carriera, cioè per la costanza, per l'impegno, per la continuità dell'attività svolta in diversi campi. Tant'è che il signor Arcangelo è stato impegnato nella sportiva di San Lorenzo, è stato presidente della sportiva di Rovetta, fa il trasporto anziani, è nella colonna mobile della protezione civile della provincia ed è anche un volontario un po' itinerante, cioè lavora anche per le associazioni oltre paese che gli chiedono di dare una mano, come nella protezione civile di Son Gavazzo e in altre iniziative. È un po', diciamo così, un volontario genuino di quelli che lavorano con immensa passione e nel lavoro si sentono appagati, hanno grosse soddisfazioni, è una persona dal sorriso ed è quindi, diciamo, siamo veramente contenti di aver conferito questo premio volontario dell'anno 2013 al signor Arcangelo Savoldelli.